Francesco Totti e Maria Luisa Iacobelli. Dopo la notizia del presunto flirt con l'ex capitano della Roma e le dichiarazioni al settimanale Gente, la giornalista Mediaset torna a parlare del caso. La 38enne ci tiene a far sapere di aver preso una decisione. Cosa è successo tra il campione e la bella giornalista nell'ora e mezza che avrebbero passato insieme in un hotel della capitale? È la notizia bomba che ha fatto esplodere il gossip. A questo proposito, Maria Luisa è stata intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la notizia. L'inviato del Tg satirico ha consegnato alla 32enne un tapiro d'oro e, naturalmente, le ha rivolto anche alcune domande. Era stata la stessa Maria Luisa a confermare l'incontro con Totti al settimanale Gente, che aveva pubblicato le foto dello scandalo, certo che lo conosco, sono una giornalista sportiva, conosco tutti i giocatori. Poi, a una domanda più precisa sul loro rapporto, Jacobelli ha risposto, io dico no comment, ma 2 più 2 fa 4. Se ci sono le foto, è evidente, ma 2 più 2 fa sempre 4. E poi alla domanda se confermasse la liaison, la risposta è stata affermativa. La giornalista adesso ha scelto di adottare una strategia precisa. Ho deciso di non parlare più, mantengo la linea del silenzio, ha dichiarato Maria Luisa Jacobelli quando Staffelli, consegnandole il tapiro d'oro, le ha chiesto se le voci sulla presunta relazione con Francesco Totti fossero vere. Jacobelli a distanza di giorni però non smentisce quanto aveva dichiarato in precedenza. L'inviato di striscia la notizia l'ha intercettata a Milano, in zona San Babila e le ha chiesto anche se si fosse pentita di aver alluso al presunto tradimento dell'ex calciatore nei confronti di Noemi Bocchi, dichiarando che 2 più 2 fa 4. La giornalista ha risposto, 2 più 2 fa sempre 4. Ma ho deciso di non parlare. Da quasi 3 anni legato a Noemi Bocchi e alle prese con una fase di divorzio con Hilary Blasi, Francesco Totti è stato immortalato dai paparazzi di gente mentre veniva accompagnato da un amico in un hotel dove, poco dopo, è entrata anche Maria Luisa Jacobelli, giornalista di Mediaset. I due sono rimasti nello stesso edificio per un'ora e mezza, poi sono usciti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra. Nei giorni scorsi Staffelli aveva provato a consegnare un tapiro d'oro anche a Francesco Totti di rientro da Miami con la sua attuale compagna. Ma l'ex capitano della Roma aveva rifiutato il premio, senza rispondere alle domande. E voi cosa ne pensate? Al canale e attivare la campanella per non perderti nuovi video.